MAMI MAMI Sì 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 il e e e e e a per 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 a 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 ok 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 atenzione ok 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 quanti anni hai? 2 bravo amore come ti chiami? Davide 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 1 si bravo Davide ti chiami Davide? Davide Davide bravo 1 quanti anni hai? quanti anni hai? 3 4 5 5 6 6 7 10 11